Le persone più felici non sono necessariamente quelle che hanno tutto, ma quelle che traggono il meglio da ciò che hanno. Ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ci parliamo di un argomento molto interessante che volevo portarvi già sul canale da un po' di tempo, anche in virtù del fatto che Bitcoin sta iniziando probabilmente una nuova fase, nuova fase che è post quella del mercato orso del 2022, questa nuova fase quale sarà? Sarà un mercato d'oro? Sarà di nuovo un mercato orso? Oppure sarà un altro tipo di mercato? Negli anni scorsi abbiamo imparato sostanzialmente che nel mercato esistono due tipologie, due fasi. Quella che definiamo mercato orso e quella che definiamo mercato d'oro. Entrambe queste fasi si un po' fanno change, quindi si fanno spola nel mercato finanziario e un po' abbiamo dei periodi in cui il mercato cresce, quindi mercato d'oro, e altri periodi in cui il mercato invece va giù per market, mercato orso. Ma esiste anche un'altra tipologia di mercato. È possibile nei prossimi mesi o addirittura, secondo alcuni ancora, nei prossimi anni, assistere ad un'altra tipologia del mercato che potrebbe essere esattamente quella che Bitcoin ed alcune delle criptovalute che oggi guardiamo un po' tutti quanti potrebbero prendere? E come si fa a gestire questa nuova fase di mercato, ragazzi? Questo l'argomento del video, un argomento importante perché ce lo riporteremo nelle prossime settimane, ragazzi, mi piaceva fare un video diverso, un video che avesse un po' l'obiettivo di spiegare che oltre alla Burran, oltre al market, esiste anche un'altra tipologia nel mercato che molti investitori, molti giovanissimi soprattutto, non conoscono o hanno visto poco. E per questa tipologia nel mercato devo anche ringraziare il mio amico Vito Lops del Solo 24 Ore perché nell'ultimo podcast che ho registrato insieme a loro mi ha rispulciato all'orecchio questa tipologia di mercato, un altro tipo di animale e quindi, grazie a Vito, ovviamente, ti ringrazio. Esiste un'altra tipologia di mercato, ci si chiama Mercato Cammello, ragazzi. Chi di voi lo conosce, già la parola dice tutto, cioè un mercato ad onde su e giù, ma chiuso in una bar di congestione. Gli ultimi due anni nel settore delle criptovalute sono stati anni che hanno insegnato tantissime cose. Sono anni in cui gli investitori cripto si sono trovati ad affrontare diverse tipologie di problemi, sia la fine di un mercato toro, che era quello che era iniziato in pratica sui minimi di questa zona del 2018, per poi fare tutto quello che abbiamo visto nella fase post-covid e si sono trovati anche a dover gestire, però, uno dei peggiori, uno dei più difficili, bear market, quindi il mercato orso della storia delle cripto. Mercato orso che, oltre ad essere stato estremamente complesso, è stato anche delicato da un punto di vista mentale, di gestione psicologica dei propri investimenti del proprio portafoglio, perché ha portato moltissimi progetti addirittura a fallire, quindi ricordiamo i progetti di Luna, Wonderland e altre cose legate al sistema DeFi, e ha portato addirittura al crash, al fallimento di quello che è stato definito come una delle più grandi truffe dei mercati finanziari della storia degli Stati Uniti, cioè il fallimento di FTX. È probabile che alla fine di questa fase di mercato, gli investitori, soprattutto lato cripto, abbiano iniziato a comprendere che fondamentalmente i rendimenti, quello che sono i rialzi dei mercati finanziari, non sono cose che nascono sugli alberi come le pere, quindi non sono rendimenti che potete andare lì e prenderle, non sono soprattutto così facili come erano quelli che sembravano all'inizio di questa fase di Burran dal dicembre 2019, anche se poi in effetti c'è stata questa parentesi dirompente dei mercati di ipervolatilità di Bitcoin che ha spiazzato tutti, quella del Covid, che però non è interessato solo le cripto, ma è interessato anche i mercati old. Seno che moltissimi degli investitori attuali pensano che questa attuale nuova fase del mercato delle cripto possa essere o una fase di continuazione del mercato orso, di quello che avete visto dal novembre del 2021 di questa fase, quindi che questa fase rialzista di Bitcoin preluda a una fase di continuazione del trend, oppure per alcuni questa nuova fase potrebbe essere l'inizio di una fase di Burran, cioè un po' una ripresa a B del mercato. Ma esiste veramente solo questa tipologia? No, abbiamo la cosiddetta fase cammello. Che cos'è la fase cammello, soprattutto, molti di voi l'hanno intuito, ma soprattutto da cosa dipende e come andare a individuarla. La questione è soprattutto legata a cosa faranno i mercati cripto nell'anno 2023 e a cosa faranno anche nell'anno 2024, anno che ci vedrà coinvolti nell'ennesimo halving di Bitcoin. E ricordiamo, post-halving di Bitcoin, di solito parte una Super Bull Run, l'abbiamo visto finora tutte le volte che è successo l'halving, ma sarà la stessa cosa. Che cosa è cambiato in questa fase? Intanto, punto primo, quello che è cambiato è la politica monetaria della Federal Reserve e della BCE, le politiche monetarie delle banche centrali in generale. È passata da quella che era una fase di quantitative easing, che è quello che abbiamo visto in pratica negli ultimi 12-13 anni, ragazzi, perché per riprenderci dalla fase del 2009-2008, delle crisi dei multisuprime, è iniziata questa nuova massiccia politica delle banche centrali di immissione dei liquidità senza limiti nel mercato. E questo ha creato diverse bolle e soprattutto diversi crash, perché un po' le banche centrali hanno modificato quella che era la loro politica standard alla naturale, quella che sostanzialmente reagiva a inflazione un po' eccessiva e a recessioni un po' acute e poi agiva appunto con il ribasto e rialzo del tasso di interesse. In quel caso invece hanno dovuto agire nella salvaguardia del sistema economico che stava in pratica totalmente fallendo, con un effetto domino che avrebbe interessato le più grandi banche del mondo e da un giorno all'altro noi ci saremmo trovati con 0 euro nei nostri portafogli, ma magari con il nostro bitcoin. Ma nessuno ce l'aveva, perché nel 2008 non c'era ancora bitcoin. La fase di crash, ragazzi, dei mercati nel settembre del 2000, ottobre del 2007, che poi non ve la potete vedere anche sull'indice americano S&P 500, questo è il suo omonimo ETF famosissimo, lo SPY, ragazzi, guardate qui quello che è successo, un baratro senza fondo. In questa zona in pratica le banche centrali sono dovute intervenire per poi andare a innescare quella che era una questione di quantitative easing, ma il mercato classico, quindi lo standard 1.500, non veniva da annate di iper bullish, quindi iper pump e di iper trend rialzista, veniva da una ripresa lenta, difficile e complessa di quella che era stata una delle più grande bolle della storia, cioè quella dei mercati, della new economy, quella dei mercati tecnologici, la cosiddetta bolla di internet. la possiamo vedere anche in quest'altra fase, perché precedentemente i mercati, vedete, venivano da una vera bull run impressionante, che aveva caratterizzato tutti gli anni 90, anni di estrema ricchezza alla fine degli anni 90 in generale, e poi aveva causato la famosa bolla della new economy, la bolla di internet, che poi era collassata, vedete, in una fase di ribasso abbastanza pronunciata, se non che la successiva fase, che possiamo vedere in questa zona qui, è avvenuta proprio a distanza, in pratica, di circa 10-8 anni. E questa zona, che state vedendo, per esempio, su SP Five Render, si può definire una zona cammello. Dal 2000 al maggio 2013, i mercati americani sono sostanzialmente stati all'interno di una zona cammello, una zona abbastanza imponente, durata 13 anni, ma a dire la verità, se facciamo riferimento all'ingresso in questa zona, partiamo dal 1997 fino al 2013, di una grande zona cammello, ragazzi, durata in quel punto, se consideriamo non il massimo, ma l'ingresso in questa zona, durata esattamente 16 anni, 16 anni di zona cammello, dove i mercati hanno oscillato con ampi e importanti trend all'interno di due livelli abbastanza evidenti. Questa zona cammello ha interessato l'intero sistema economico, in pratica, l'SP Five Render, degli Stati Uniti, ragazzi. Pensate agli altri. Quello dell'Europa, per esempio, il MIB italiano, non si è mai ripreso da quella zona lì, quindi è sempre stato al di sotto, ha fatto con lui una zona cammello gigantesca, e ancora dentro una zona cammello, ma questa zona cammello ha interessato il più grande mercato della storia, i 500 titoli più capitalizzati della storia, ed è durata la bellezza di 13 o 16 anni, a seconda di come la guardate. Ma in sostanza, chiunque avrebbe comprato all'interno di questa fascia, ragazzi, poteva guadagnare solo se comprava. Nella zona bassa del cammello è basta. Ma se qualcuno avesse comprato in questa zona, in pratica si sarebbe trovato con i fondi, con le stocks, in quel caso, bloccate e senza rendimento per 16 anni. Zona cammello. È proprio questo, quindi, il quesito da sciogliere per i mercati delle criptovalute che riguardano gli anni 2023-2024, ma a questo punto abbiamo visto che nella storia, anche recente, prima del quantità di vising delle banche centrali, i mercati sostanzialmente sono stati fermi per circa 13 anni con ampi trend. Attenzione che non vuol dire che non si possono sfruttare questi ampi trend. Sì, certamente, la zona cammello è una zona che i traders adorano, ragazzi, si può sfruttare, però, ovviamente, per chi fa un hold, per chi ragiona in termini di lungo, lungo, lungo periodo, 16 anni sono veramente tantissimi, moltissimi investitori non li hanno, ragazzi, 16 anni davanti alla loro possibilità di investimento e poi non avrebbe magari molto senso perché magari sono troppo anziani poi quando vanno a prelevare i loro eventuali rendimenti. Non avere rendimenti per 16 anni, per 10 anni, per 13 anni, veramente è un lasto di tempo molto lungo. Perciò dobbiamo ragionare su questa cosa e capire se è possibile creare una mini guida per autostoppisti, per cripto autostoppisti che ci possa indicare quali punti dobbiamo andare a guardare sul mercato delle criptovalute su Bitcoin per capire se effettivamente Bitcoin ha segnato un massimo storico veramente importante, un massimo storico come quello di SP500 segnato nel marzo del 2000 e da lì è iniziata una fase del genere che ci accompagnerà con un su e giù fatto con uno zigzag di natura totalmente bilanciata, totalmente in barra di congestione che non porterà mai a noi massimi. Non è una cosa nuova perché in molti a dire la verità anche se non vengono mai prese in considerazione perché magari non fanno scalpore hanno parlato della possibilità che i mercati nei prossimi anni subiscono questa cosa. In primis il punto fondamentale è dovuto alla questione della quantità di vising che viene meno. La seconda cosa è il controllo dell'inflazione. Ancora non abbiamo idea se l'inflazione sarà sotto controllo ma soprattutto se i mercati torneranno mai in un momento di quantità di vising. A dire la verità moltissimi macroeconomisti sperano che questo non avvenga perché ragazzi perché i mercati in una fase di naturale fluttuazione sono mercati più sani e quindi i mercati con un tasso di inflazione intorno al 2-3% e un tasso di interesse intorno al 3-4% sono mercati più sani. Questo significa anche che le banche centrali non drogheranno probabilmente più i mercati come abbiamo visto fare per esempio da questa zona in poi perché dopo il crash del 2008-2009 in questa zona le banche centrali sono dovute intervenire creando ragazzi il più grande bull market della storia totalmente manipolato dalla immissione di liquidità. Questa zona qui per molti è stata definita come la fine dei giochi la fine di questo tipo di giochi è il probabilmente inizio di una fase cammello molto molto lunga personalmente penso che 16 anni siano tantissimi e che il mondo attuale non sia paragonabile a quello del 2000 e che probabilmente la velocità di reazione dei mercati sarà sensibilmente migliore rispetto a quello degli anni scorsi però magari stare 4-5 anni in ogni caso per investitori delle cripto bloccati in un limbo senza né se e né ma potrebbe essere estremamente difficile da gestire allora andiamo a fare questa cosa andiamo a scoprire una guida per cripto autostoppisti da dove andremo a vedere se effettivamente un mercato può diventare un mercato da cammello o no per gli anni a venire primo punto fondamentale bitcoin lo ha già fatto ragazzi cioè andare a realizzare un massimo senza spinta un massimo senza forza e creare una zona tampone una zona di resistenza che non è data solo da un massimo storico da hype e da bull run ma è dato da un retest del precedente massimo storico senza possibilità di superamento che crea quindi una barriera che in termini psicologici e anche in termini tecnici è molto più forte delle precedenti e bitcoin questa cosa l'ha già fatta ragazzi l'ha già fatta nella zona di marzo febbraio marzo aprile scusate 2021 e nella zona di novembre 2021 se guardate le precedenti fasi questa cosa ragazzi vedete non c'era perché le precedenti fasi erano reazioni di natura standard a quella che era una fase di eccesso che era precedentemente stata avviata anche nelle precedenti fasi di hype il mercato non ha mai ritestato e creato una fascia di resistenza molto imponente ma ha fatto un massimo e poi è sceso giù la stessa qui lo stesso anche negli anni precedenti qui arriviamo nel 2011 ma tutte le fasi di hype di bitcoin sono sfociate in un bear market diretto questa è l'unica ragazzi che ha fatto una fase di massimo doppio massimo creando una fascia iper potente di qui non puoi passare c'è una fascia molto rilevante questo è il primo punto che può identificare in effetti la questione del cammello d'altronde guardate anche voi come in effetti già la zona cammello sia andata a delineare sulla parte alta poi c'è un altro fattore il mercato dovrà andare eventualmente a ritestare come ha fatto nella parte hype anche le parti down se per esempio bitcoin agisse in un modo del genere andando a fare per esempio una struttura di recupero intorno ai 30.000 e poi riscendere proprio per tutto l'anno 2023 andando a tentare il breakout dei 15.000 dollari che è la fase di minimo creando in sostanza quella che aveva già creato con il doppio massimo facendo un doppio minimo confermerebbe ulteriormente la creazione di una zona cammello questo secondo punto e la successiva eventuale inversione indicherebbe che siamo entrati in una nuova fase c'è una fase che non è più una fase che bitcoin aveva avuto negli anni precedenti c'è una fase in cui il bear market finiva su un minimo e quel minimo non veniva sostanzialmente ritestato a distanza di molti mesi se era stato ritestato avevamo avuto solo questa fase qui che vi faccio vedere nella zona del 2015 che era stato in effetti un leggero ritest però la fase di recupero era stata lenta marginale quindi questo come vedete è una oscillazione più che un doppio minimo imponente e poi qui ovviamente non c'era stato nessun doppio massimo era stata una correzione diretta quindi la presenza in pratica di una doppia gobba nella parte alta dei prezzi di bitcoin e in questa zona se dovesse continuare la sua fase perché se da qui andasse a fare un suo giù non sarebbe appunto una doppia gobba ma semplicemente un'oscillazione intorno a un prezzo di equilibrio che in questo caso intorno ai 19.000 e qualcosa non più quindi un'oscillazione tra mercato toro e mercato orso ma un'oscillazione un supermercato in congestione in barra di congestione che si definisce proprio un mercato cammello quanto dura un mercato cammello ragazzi un mercato cammello è un mercato di attesa e può essere sia un'attesa negativa sia un'attesa positiva perché poi da un mercato cammello si può uscire solo in un modo breakout di uno dei due livelli ed è pericolosissimo perché un mercato cammello che dura per tanto tempo impone che il breakout di un livello inferiore è praticamente e porta all'esaurimento della vecchia spinta rialzista e quindi probabilmente al crash sistemico del mercato mentre un breakout del livello inferiore riporta una nuova bull run però attenzione perché molti analisti stanno dicendo che visto i massimi storici creati da bitcoin nello scorso anno e visto che erano pompati dalle quantità di vising delle banche e visto che queste quantità di vising sono venuti meno che in sostanza le banche centrali non modificheranno la loro politica probabilmente sicuramente non è il 2023 nel 2024 si dovrà vedere basterà l'albing a riportare in auge una nuova bull run oppure semplicemente l'albing servirà appunto a bitcoin per riavvicinarsi magari dopo una zona fatta così a una fase di massimo quella che era intorno ai 69.000 per poi ritornare a scendere e quindi ostinatamente bloccarsi in pratica in questa zona cammello per tanto tanto tempo che potrebbe essere due anni 2024 ma a quel punto se il 2024 non ce la fa a recuperare probabilmente aggiungerà un altro intero quadriennio che è il nuovo albing e quindi un altro quattro anni in questa zona per un totale di circa otto anni non sembra vero a dirlo oggi ma magari potrebbe essere una cosa del genere i dati ci sono come si agisce allora se siete degli investitori e volete imparare a comprendere come agire in una possibile zona cammello c'è anche per questo una guida per cripto autostoppisti quindi abbiamo imparato a come andare a individuare la zona cammello qual è la zona pericolosa cioè il doppio minimo che dovesse verificarsi entro settembre ottobre 2023 sarebbe molto identificativo di una probabile zona cammello ma poi c'è la seconda fase cioè come andiamo a tradare questa cosa cioè cosa può fare un investitore in una zona cammello tutto primo anche qui bisognerà definire quella che è una zona neutrale cioè quelle che sono i livelli ragazzi delle coppe del cammello qual è la parte alta qual è la parte bassa poi al centro il mercato cilerà in un limbo assoluto e vi faccio vedere un esempio di questa zona proprio in questo grafico ecco la più grande zona cammello che io ricordo i ragazzi su un indice di borsa che in pratica inizia a ottobre 2008 ed ancora oggi continua vedete ostinatamente si tenta il breakout di questa zona ma in pratica ancora continua questa zona cammello a distanza di tantissimi anni perché siamo ora nel 2023 e questa zona è iniziata nel 2008 quindi abbiamo 15 anni di zona cammello ed è abbastanza evidente vedete come la struttura del cammello si va a creare su e giù su e giù a dire la verità questo è il grafico del Fuzi Mib Italia qualcuno di voi lo conosce quindi il grafico della borsa italiana che da 15 anni è in sostanza bloccata totalmente non va né su né giù è in una super zona cammello però c'è da dire che lo scorso anno verso maggio del 2021 era stata fatta un break di questa zona per la prima volta in 15 anni circa 13 anni questa è è stata una cosa interessante quindi potrebbe essere in effetti che anche questa zona abbia segnato la definitiva rottura della zona cammello d'Italia non lo sappiamo questo bisognerà vedere perché poi subito dopo in febbraio 2022 è rientrato dentro la zona cammello quindi non lo sappiamo però questo era per farvi vedere quello che potrebbe in effetti andare a innescarsi proprio all'incirca in questa zona quindi bisognerà definire poi quelle che sono le zone neutrali che sono la parte alta e la parte bassa per quanto riguarda bitcoin ipotizziamo che potrebbero essere a quel punto la zona dei 70 mila dollari e la zona dei 13 14 mila dollari se fa una zona cammello in questi in questi ambiti qui e una volta definito la zona neutrale bisognerà imparare a comprendere come te la dare i trend perché il mercato potrebbe dare dei trend interessanti come ha dato questo meno 80% ragazzi nella fase di bassista potrebbe dare un più 200% nella fase a riazzo vi faccio vedere perché perché se noi andiamo a considerare da questi minimi a questa zona siamo a più 270% per quanto riguarda bitcoin quindi potrebbe avere una zona cammello sì ma anche con forti oscillazioni molto imponenti e quindi imparare seconda regola fondamentale imparare a ragionare di trend e a riconoscere un trend e a seguire un trend perché se i mercati delle cripto dovessero rientrare nei prossimi due tre anni quattro anni in una zona cammello senza andare in una nuova bull run quindi senza fare nuovi break dei massimi dovete imparare a comprendere come tradare questa fase e quindi i vari riconoscimenti dei vari trend e quindi riconoscere i vari trend che sono all'interno di questa zona neutrale terzo consiglio che vi do è assolutamente fondamentale andare a imparare a riconoscere quelli che sono i trend in base agli orizzonti temporali se siete all'interno se andremo in una zona cammello è fondamentale ragionare con diversi tipi di investimenti quindi non dovete ragionare solo al buy and hold di lunghissimo periodo perché stare dentro a un buy and hold di lunghissimo periodo che dura con una zona cammello che dura dieci anni vi logora e vi devasta ragazzi da un punto di vista proprio di investimento quindi è pericoloso e soprattutto non riuscirete a ottenere un gran profitto e stare fermi dieci anni senza profitto con l'inflazione che galoppa non è una scelta giusta quindi fondamentalmente diversificare le strategie come andando a ragionare per orizzonti temporali quindi avere l'orizzonte di lungo l'orizzonte di medio e l'orizzonte di breve non brevissimo perché magari in molti di voi è complesso andare a ragionare da questo punto di vista ma il medio ragazzi e il medio lungo io direi che sono gli orizzonti temporali che dovete imparare assolutamente a riconoscere quarto e ultimo punto fondamentale imparate a leggervi un libro che vi spiega le basi fondamentalmente dell'investimento in maniera tale che in questo modo riuscite magari a stare all'interno di queste fasi riconoscendo un trend e magari galoppando quelli che sono gli investimenti corretti in determinati fasi tutti i mercati andranno e confluiranno in una eventuale fase cammello non è così ragazzi perché di solito le fasi cammello sono e riguardano quelli che sono gli indici dei mercati finanziari nel caso delle cripto non abbiamo gli indici abbiamo bitcoin abbiamo ethereum ma alcune cripto probabilmente le vedrete fare dei pump abnormi quindi per quelle cripto lì e anche dei dump abnormi probabilmente per quelle cripto lì varranno sempre le stesse identiche regole che sono delle regole di natura fondamentale possiamo anche a quel punto diversificare quelle che sono le tipologie di investimento in base alle varie alle varie fasi quando avete e vedete un mercato toro ragazzi si fa una buy and hold perché il buy and hold è una strategia che paga tantissimo in un mercato toro quando siamo in un mercato di bear market dovete fare una sola strategia sell o meglio chiudere le posizioni che sono altamente speculative o quelle che sono posizionate su asset che sono fortemente volatili e fortemente speculativi così hanno fatto anche gli investitori istituzionali per esempio nell'ambito sia dei mercati cripto sia dei mercati classici proprio nel 2022 per questo avete visto il nasdaq per esempio crollare molto più di standard e puts 500 poi c'è un'altra questione invece nel mercato cammello come agire abbiamo visto che si agisce diversificando le strategie questo significa che per questioni di lungo periodo restate hold con una parte del vostro capitale su quelli che sono i progetti che magari hanno ancora un trend importante riescono a stare su poi fate una diversificazione su una strategia di medio termine che vi insegna a seguire quelli che sono magari i trend cioè queste fasi come quella che è appena probabilmente iniziata su Bitcoin e invece a uscire quando queste fasi magari invertono come può essere una cosa del genere basta guardare una media mobile o una normale trend e invece poi per gli amanti della speculazione imparate il trading ovviamente per le strategie di breve che vi insegnano magari a stare su i mercati cammello proprio in maniera estremamente profittevole perché i mercati cammello parliamoci chiaro sono mercati per trader e i trader ci sguazzano in questa cosa d'altronde ragazzi lo avete già visto nell'anno 2021 e nell'anno 2022 che in sostanza sono stati anni per trader quante volte il mercato regala una burran dopo un bear market oscillare tra un mercato toro e un mercato orso significerebbe avere un bancomat perché ragazzi sulle burran basta fare buy and hold e si va in game ma anche sui bear market è così basta fare sell short a quel punto guadagnate praticamente tutta la fase di ribasto avremmo in mano un bancomat è davvero possibile quindi assistere solo a queste due fasi oppure dopo decenni di regali da parte del banche centrale con i quantitativi easing i mercati torneranno a quelle che sono logiche più professionali io una risposta a questa domanda già la immagino ma ovviamente sta a voi rispondervi se pasti gratis così gratis possono esistere per tanto tanto tempo ho iniziato il video con una fase di ship run ragazzi e lo concludo con un'altra fase la vita io direi i mercati a dire la verità non è una questione di come sopravvivere alla tempesta ma è una questione di imparare a come danzare nella pioggia come danzare sulle gobbe dei cammelli ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti